Nell'Inghilterra cupa e decadente di inizio ventesimo secolo, il paladino di Londra risponde al nome di Jonathan Ryde. Medico chirurgo, veterano della prima guerra mondiale, è stato per disgrazia trasformato in un vampiro, tragedia che lo ha inesorabilmente allontanato dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari. Malgrado la sua condizione e la sete di sangue con la quale è costretto a combattere ogni notte, Jonathan è più che determinato a trovare una cura per quella che lui stesso definisce una terribile malattia, in modo che nessun altro possa rimanervi contagiato. Questo incrollabile assunto, qualsiasi siano le vostre azioni, fa da sfondo all'intera storia e comporta soltanto lievi modifiche ai filmati, specie sul finale. La prima contraddizione di Vampyr sta quindi proprio nell'aspetto che dovrebbe essere il più importante. Non esiste, dal punto di vista narrativo, una distinzione davvero netta ed incisiva alla infamus, per capirci, fra un percorso da vampiro buono e vampiro cattivo, il quale può infischiarsene di tutto e tutti, compresa la sua missione finale. Ed è un vero peccato, perché poi a livello strutturale il gioco vi permette, qualora lo desideriate, di uccidere praticamente tutti i personaggi con cui potete interagire. Le interazioni sociali sono o dovrebbero essere il cuore pulsante dell'esperienza offerta da Vampyr, e c'è da dire che per buona parte delle vostre scorribande riescono abbastanza degnamente nel loro compito. Il problema più che altro nasce quando si prova a scendere un po' più a fondo nell'amalgama di scelte e situazioni, pungolando in maniera neanche troppo forte l'illusione narrativa che ricopre tutto quanto. Così facendo, ci si rende conto che in realtà non c'è molto altro sotto la superficie e che la cosa migliore da fare è stare al gioco degli sviluppatori, accettando che siano le parole e nient'altro che quelle a tenere insieme tutto e dimenticando non solo che, anche se provassimo a mettere indiscriminatamente a ferro e fuoco la città, le nostre azioni non avrebbero reale ripercussione sulla storia, che procede per lo più dritta per la sua strada. Il mondo di Vampire è insomma un tutto sommato apprezzabile contenitore di cristallo, pronto a rompersi in mille pezzi nell'esatto momento in cui cominciamo a porci delle domande, interrogandoci sulla nostra effettiva libertà. Il punto è che quando poi si entra nel vivo dell'azione, dimenticando le dissonanze fra narrativa e struttura di gioco, molti aspetti riescono anche ad essere divertenti, ad intrattenere per parecchie ore. Entro i limiti ben definiti, Jonathan può infatti muoversi come meglio crede, trasformandosi in un vero e proprio Deus Ex Machina e decidendo, come detto, il destino di ogni personaggio secondario, con alcune eccezioni. Se optate per la via del buon samaritano avrete accesso a diverse quest secondarie, che sono tutto sommato piacevoli, pur non tantissime e non esattamente il massimo dell'originalità. Se invece vi trasformate in un mefistofelico giustiziere della notte otterrete un determinato quantitativo di punti esperienza per ogni cittadino eliminato, i quali vengono stabiliti sulla base della qualità del suo sangue e possono aumentare nel caso in cui si decida di curare gli ammalati per poi eliminarli brutalmente. Dando libero sfogo alla vostra sete, anche nell'arco di una sola notte porterete i quartieri al collasso totale e zone prima tranquille verranno popolate da licantropi, skull e qualche vampiro ostile. Tutto ciò è legato ad un sistema di crescita fortemente asimmetrico che fornisce molti più punti esperienza infischiandosene delle missioni secondarie e facendo fuori tutti. A voi la scelta. Dal canto nostro arrivati a metà avventura e svolta qualche quest opzionale abbiamo deciso di assassinare uno dopo l'altro tutti quanti gli NPC in tre dei quattro quartieri, cosa che prima di allora non avevamo mai fatto e anche se, in linea teorica, avremmo dovuto essere limitati dal livello di fascinazione di Jonathan. Questo parametro, inserito per impedire di mordere ogni collo che ci si pari davanti fin da inizio gioco, soffre di un enorme problema che compromette l'intera progressione. Il quarto livello, su cinque totali, si sblocca infatti poco dopo la metà della storia, dando in un sol colpo libero accesso ad almeno il 90% dei punti esperienza accumulabili in questo modo e rendendo il resto del gioco una passeggiata. Noi così facendo abbiamo praticamente raddoppiato le abilità del nostro eroe. Questa condotta ha comportato l'abbattimento totale della difficoltà di ogni scontro, permettendoci di eliminare praticamente ogni nemico con pochissimi colpi e trasformando radicalmente ogni combattimento. Quello che era un action-adventure dal sapore vagamente bloodborniano, nel quale, centellinando la stamina, bisognava dosare attentamente a fondi e schivate, si è trasformato quasi in un godgame. Visto e considerato tutto quanto, è persino deprimente mettersi a parlare di tutte le meccaniche che regolano anche abbastanza finemente il sistema di combattimento, fra cui la possibilità di stordire nemici in vari modi per poi morderli e ottenere del sangue, utile a modi mana per utilizzare i poteri vampireschi di Jonathan. Il far funzionare tutto quanto dipende soltanto da voi. Se supererete il livello 40, non avrete più alcun nemico in grado di fronteggiarvi. L'unico ostacolo al percorso malvagio è il boss finale del gioco che, almeno nel nostro caso, ci ha fornito un buon livello di sfida e ci ha dato l'impressione di essere un ostacolo calcolato, inserito quasi per punire i giocatori cattivi. Nel corso delle 20-25 ore necessarie per giungere al finale, ci sono almeno un altro paio di scontri apprezzabili, ma se volete divertirvi dovrete comunque fare attenzione ad affrontarli senza livellare troppo. Dal punto di vista visivo, invece, ed è inutile girarci intorno, Vampire è assolutamente splendido. La ricostruzione, liberamente romanzata, della Londra del 1918, famosa per la sua decadente bellezza, è eccezionale. Persiste però qualche evidente problema di ottimizzazione, almeno su console, ed è infine completamente assente per ora il supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X, la cui maggior potenza avrebbe sicuramente giovato all'intera esperienza, quantomeno per avere performance più stabili. Proprio come Remember Me degli stessi sviluppatori, Vampire è un titolo che vive di luci ed ombre. Doveva essere il progetto della definitiva consacrazione di Don't Know Entertainment, ma così purtroppo non è stato. Se anteponete la narrativa al gameplay, Vampire può sicuramente piacervi, ma anche in quel caso dovreste mettere in conto più di un elemento, fra cui la totale mancanza di un'interazione che non sia la fa e la spola da un NPC all'altro, prima di dargli quella chance che comunque per determinate nicchie di pubblico merita.